Sono stati premiati oggi giovani studenti dell'Accademia di Belle Arti, vincitori del bando Progetto Nuovi Talenti per Donanza Celestiniana. Dieci ragazzi in varie sezioni, più quelli che hanno partecipato alla realizzazione del fumetto dedicato a Celestino. L'Accademia di Belle Arti ha utilizzato i fondi raccolti durante gli spettacoli dell'edizione 2019 della Festa Celestiniana, per dare impulso a nuovi progetti formativi. Un premio aperto a tutti gli allievi denominato Giovani Artisti in Quarantena, vista la situazione di didattica a distanza e quindi di isolamento che gli studenti stanno vivendo causa pandemia. Una seconda parte del progetto ha riguardato la realizzazione di un progetto che ha previsto appunto la creazione di un fumetto incentrato sulla figura di Celestino Quinto. Insieme al concorso Giovani Artisti in Quarantena è stato anche promosso un workshop di fumetto condotto da Squaz, un famoso fumettista, coordinato dal nostro docente di fumetto Michael Rocchetti che ha elaborato delle storie sulle vicende di Celestino Quinto. Quindi particolarmente originale e di grande capacità di cogliere proprio per questo remitaggio forzoso che hanno subito i nostri studenti arrivare e ritornare indietro nel tempo e capire certe sensibilità che sono ahimè adesso attuali. Lavori di grande qualità nei quali ragazzi hanno saputo attraverso l'arte esprimere le loro emozioni vissute in un momento difficilissimo per tutti. Il cibo è stato un bene prezioso e durante il periodo di quarantena è stato un bene che purtroppo è mancato a molte famiglie, mancando il lavoro è mancato appunto anche il cibo. E ho voluto rappresentare questa corrispondenza tra mascherine e cibo. L'opera che ho presentato è voluta essere una trasposizione di quelle che sono state le numerose emozioni, sensazioni che ci hanno attraversato nel periodo della quarantena. Quindi ho cercato di rappresentare il senso di angoscia, di oppressione, di questo senso di chiusura che comunque ha oppresso non solo noi stessi ma anche la nostra arte.